A meno di 24 ore dalla conferenza stampa che si trarà domani in municipio per presentare il nuovo museo di classe, Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna in consiglio comunale, è tornata all'attacco del museo che sorgerà nell'ex zuccherificio. Un museo inutile e insensato, costato una follia, ben 25 milioni di euro, che al suo interno proporrà reperti provenienti, non dagli scavi di classe, ma da altri musei del territorio. Con in mano la lista delle opere che saranno esposte, la Verlicchi, durante la conferenza stampa di questa mattina, è evidenziato. Il valore medio dei reperti, bassissimo, si aggira tra i 10 e i 100 euro. Pezzi di valore sono davvero pochi. Ha anticipato notizie importanti sui reperti che verranno esposti al museo di classe. Sì, nella conferenza stampa di questa mattina ci concentreremo nell'elencare, nel dettagliare, quelli che saranno tutti i reperti che verranno esposti al museo di classe di prossima apertura. La prossima lo uso con il dovuto punto interrogativo, perché la sua inaugurazione di questo museo viene rimandata a 14 anni, quindi adesso si parla della fine del 2018, vedremo se sarà questa. Comunque, come dicevo, elencheremo tutti i reperti. E perché elencheremo questi reperti? Perché dal valore del reperto che noi andremo ad indicare, si capisce che il motivo della nascita di questo museo non c'è. Mi spiego meglio. I reperti che verranno esposti hanno un valore stimato medio da 10 a 100 euro, salvo alcuni pezzi che vengono invece stimati con un valore più alto, però diciamo che questa è la media. Il museo di classe, 14 anni per aprirlo, forse di più, ripeto, perché non sappiamo quando verrà aperto, e 25 milioni di euro di costo per aprirlo. Quindi reperti che fra l'altro vengono presi da musei del territorio, questo lo sappiamo, ormai è andato di fatto tantissimi dal Museo Nazionale di Ravenna, altrettanti da Faenza, Russi e Castel Bolognese. Quindi non sono reperti che vengono presi e che sono stati ereditati dagli scavi di classe, come si era voluto far credere fin dall'inizio. Sono reperti che vengono presi da altri musei e che vengono portati all'interno di classe solo per giustificarne la creazione. Certo è, ripeto, che un valore così basso e una qualità così bassa dei reperti non giustifica 25 milioni di euro di spesa. Mi stavo parlando appunto dei reperti, il valore? Il valore è molto basso di questi reperti e, ripeto, questo non giustifica l'apertura di un museo così faraonico. Peraltro reperti che nella quasi totalità sono già esposti al Museo Nazionale di Ravenna, che si trova in pieno centro storico, che si trova vicinissimo alla maggior parte dei monumenti UNESCO della nostra città, vengono portati a classe in un museo che non è poi così vicino alla Basilica di Classe, in un museo dove la gente, il turista, dovrà essere portato col forcone perché di sua spontanea volontà non andrà. Come dice lo stesso studio di fattibilità commissionato nel 2013 dalla Fondazione Ravenna Antica è che evidenzia molto bene come il museo non potrà avere attrattiva per i turisti e non potrà portare nuovi turisti, ma dovrà attingere al bacino i turisti che già vengono a Ravenna per altre motivazioni. Quindi noi riteniamo che questo sia veramente scandaloso, spendere 25 milioni di euro per un giochino da dare all'assessore Signorino, iniziato quando lei era presente alla Fondazione Ravenna Antica. C'è un altro punto che oggi andremo a sottolineare, è quello dei costi dell'allestimento e dei contributi ricevuti per l'allestimento del museo. La Fondazione ha già ricevuto dalla Cassa di Risparmi un milione e mezzo di euro per l'allestimento, al contempo ha fatto chiedere al Comune di Ravenna, alla Regione, un altro contributo di 730 mila euro per la stessa destinazione. Peccato che risulti che il costo totale di questo allestimento sia di un milione e mezzo ergo i costi erano già coperti dal contributo della Fondazione. Perché chiedere alla Regione altri 730 mila euro? Peraltro l'allestimento è andato a bando, un bando appunto indetto dalla Fondazione Ravenna Antica per un milione e mezzo al ribasso. È stato aggiudicato a una società di un consulente, peraltro, della Fondazione Ravenna Antica e che collabora con loro da tantissimi anni, caso strano, per 900 mila euro, poco più. Ci chiediamo la differenza che fine ha fatto, quindi la differenza più i 730 mila euro della Regione. Dove sono andati a finire questi soldi? Fra l'altro, dicevo prima, bando aggiudicato a uno dei collaboratori di Ravenna Antica, uno dei collaboratori storici e bando che non riportava la dovuta richiesta della certificazione SOA, cosa che è molto strana in un bando di un valore così alto. Quindi ci chiediamo se non abbiano voluto in qualche modo spianare il terreno a questo collaboratore perché si aggiudicasse il bando. Diciamo che i punti oscuri, le ombre su questo museo sono tantissime.